ora devo fare fettine di carne arrostita già congelata ho messo la black y'all sul fuoco e con un tovagliolo cosparso lo cosparso con un goccino d'olio sono vuota non la potevo meno non la potevo mettere riscaldare ora è sul fuoco che si riscaldano così con quel goccino d'olio è come se io non l'ho messa vuota l'ho messa a riscaldare un paio di minuti ora inserisco la carne ora controllo dal momento girarla che sicuramente la devo girare devo togliere la pentola dal fuoco e senza fare l'acqua il sale si mette dopo al piatto il sale e un goccino d'olio extraverso verso il livello li controllo apposto la lascia in pentola che ancora i miei non sono arrivati si si mantiene caldo spengo